siamo nel padiglione 2 c'è la mostra di nix bellissima ragazzi da venire a vedere ovviamente dal vivo ma non solo nix ovviamente sono le prime tavole ma ci sono anche le tavole di sexy taste di ella mirulla guardate le tavole dell'international hercules a matita ciao ragazzi infinite ma dove siamo qua il padiglione 2 qualcuno si chiederà e dove si mangia dove c'è il caffè cospero certo non siamo noi invece saremo con lo stand nel padiglione 3 ma parliamo ancora un attimo della mostra guardate iris guardate che tavole queste sono le copertine di sexy taste 7 normal e deluxe in anteprima assoluta guardate ragazzi che meraviglia sono state realizzate delle litografie in tiratura limitatissima chi ne compra almeno 4 facciamo anche una cartellina con un disegno dell'autrice ragazzi meraviglia delle meraviglie insomma mi fermo qua dove siamo al caffè al padiglione 2 che ancora il padiglione 3 lo vedete dall'altra parte ancora insomma la mostra bisogna ancora finire di farla infinita questa autrice come è bravissimo alessandro squadrico autrice di mix